ciao ragazzi eccomi qui niente con un video acquisti della domenica allora sono andato al gistop a fare un giro e avevano le offerte guardate 3 euro non ho più idea di cosa sia ma non potevo lasciarlo di nuovo mi hanno detto che è un rpg tutto in inglese ma chi se ne frega proprio devo imparare ragazzi ora per i stessi temi sta prendendo di brutto ve lo dico sono tanti di quei giochi che devo recuperare che supereranno sicuramente quelli della guambe lo dico già adesso l'hanno superato questo l'ho pagato 3 euro si chiama lo dico adesso aspettate eh record of agares more zero saluto vale valerio ciao fratellino e saluto jacopo nuovo iscritto poi saluto tutti i ragazzi del gruppo di whatsapp tutti i ragazzi dei gruppi che abbiamo formato tutti i miei fratellini e sorrellina mi fidanzatale e tutti quanti raga ciao valerio ciao jacopo saluto il mio socio sivo poi sono andato al guest stop e ho preso tatatata è un grazie era più forte di me non potevo non prenderlo l'ho provato alla guest 2 anni fa mi sono innamorato non vedo l'ora di giocarlo facciamo anche quello che dico io stasera accendere la p3 poi ho preso un gioco un po' strano time and eternity delle donzelle è un rpg stile manga questi sono libretti ragazzi libretti così ce li sogniamo cazzo veramente guardate qua scusate la parola c'ho kiki sulle mie gambe voi non lo vedete ma adesso lo faccio vedere guardate dove è anche il che ha preso vuole fare il lucky lover lui vuole fare che lui poi ragazzi come non potevo prendere dai e direi l'ho preso l'ho preso perchè ne vale veramente la pena veramente 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 tanto 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 io l'avevo giocato l'avevo iniziato adesso giocherò con la mia fidanzata quando verrà qui tanta roba e direi allora ragazzi niente questi sono stati gli acquisti di oggi quattro giochi per playstation 3 devo fare tanti recuperi devo prendere tutti quelli di dragoball tutti quelli di onepix tutti quelli di naruto poi devo prendere Deadpool poi devo prendere tutti gli rpg che hanno fatto che mi piacciono anche per ps vita per fare un bel po di recuperi ancora mi pare 5 6 titolini e di questi qua invece ragazzi saranno ancora penso una cinquantina di titoli da recuperare non so dove li metterò ma questi sono gli acquisti poi 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 niente sono andato a fare un giro c'era poca gente poi ragazzi ho il telefono nuovo farò però nell'altro video adesso io ho fatto vedere gli acquisti della domenica che sono heavy rain time and eternity final fantasy 13 e questo rpg a 3 euro nuovo mi facciamo prendere adesso sta con tutti gli adesivi perché stanno sulle palle gli adesivi e niente raga ci vediamo al prossimo video acquisti sicuramente ragazzi sapete che sarà te domenica sarò alla novego chi viene può tranquillamente trovare lì il messaggio che viene lì a novego farò il fumetto farò degli acquisti non di videogiochi ma di action figure dei pop solo pop e poi gli altri action figure mi arriverà una con dentro preso naruto l'ultima di naruto con la statua dentro a 60 dove tirarla poi preso dragon ball con la statua dentro per l'1 e l'acquisto di fare importantissimo è un hard disk da 500 giga con la farina da espandere la playstation e basta perché tre mesi per ora ce l'ho poi farò l'abbonamento di altri tre mesi e che altro dirvi niente ho fatto solo questi acquisti qua Jacopo mi ha detto se lo salutavo lo saluto ciao Jacopo Valerio mio fratellino tutti i miei fratellini e sorelline tutti i ragazzi in Google Usai i miei nuovi iscritti iscritti che mi seguono dall'inizio grazie ragazzi sto crescendo sono veramente felice e la gente ci domanda perché spendiamo soldi in videogiochi forse perché è la nostra passione la nostra passione lo facciamo io non fumo non bevo non mi drogo spendo i videogiochi in telefonini eccetera eccetera è una passione che ho che ho fin da piccolo e la porto avanti finché Dio me lo permette la porterò avanti niente raga io mando un bacione a tutti un abbraccio grandi grandi a tutti i miei iscritti e i miei nuovi iscritti continuate a seguire continuate a spolliciare a commentare mi raccomando ci tengo perché ci sono grazie a voi saluto il mio socio Simo che si metterà all'opera a settimana metà settimana penso e niente raga questi sono gli acquisti guardate gli acquistini che ho fatto oggi da guestrop guardate una stupidata poco lo sconti io ce l'ho scritto nel 15 per cento poi c'è qua abbiamo Kiki che saluta ciao Kiki saluta bello lui guardate quanto è bellino questo è il mio chichettino ultimamente è diventato guardatelo guardate quanto è bellino che è prendo i bacini ho diventato i bacini ho diventato coccoloso diventato come sempre sta l'accento dell'attenzione quando faccio i video vero Kiki la Lilia è venuta con me in giro come sempre perché lei si sa comportare invece noi un po' un cafonaccio e niente raga ci vediamo alla prossima vi saluto vi dico ciao belli alla prossima e chi vuole spero incontrare dei fan a Nove Negro che andrò con la mia fidanzata e poi non so chi viene ci vediamo la aggiungetemi su PlayStation 3 aggiungetemi sulla One aggiungetemi su Steam aggiungetemi su Origin su Buttonnet aggiungetemi su tutto che ci sono per tutti ok raga ci vediamo al prossimo video che sarà dopo di questo su un telefono in modo portatile e un cellulare e un telefono scusate uno smartwatch che ho al polso che ho al polso guardate quanto è carino dice le notifiche tutte le cose guardate se io muovo si muove anche il quadrante lo si vede bene ma si muove il quadrante faccio una cosa di Facebook guardo qui ho una notifica si ok ho fatto 5.109 passi oggi e niente e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao belli e fatti bravi e buona domenica ciao raga